Si dicono tante di quelle storie, si dicono tante di quelle stupidaggini, consentitemi, di quelle impressioni. Io comprendo una sola cosa e la faccio anche mia, una legittima preoccupazione da parte delle mamme, dei papà, dei nonni, dei genitori, di avere la tranquillità, ma questa è anche l'esigenza di quella famiglia cinese che a tutti gli effetti sono cittadini di Grotta Minarda. Ho sentito tante di quelle storie, ho sentito fino anche di persone, pur con un certo grado di lauree, poche per fortuna, che volevano anche assegnare i compiti al dottore incaricato all'Asla di quello che avrebbe dovuto fare o quello che doveva fare. Lui, il dottore, ha seguito con lo scrupolo professionale e con il senso di responsabilità il protocollo che viene assegnato in questi casi di rientro di cittadini dalla Cina, perché non è che possiamo bloccare, non è che potevamo impedire, se c'erano le condizioni negative, sicuramente questa mamma sarebbe rimasta in Cina, dove la Cina l'avrebbe fatta curare, ma siccome questo è il controllo, il risultato è perfettamente normale e anche adesso, che sta quasi al 14esimo giorno, perché è rientrata dalla Cina il primo febbraio, non ci sono problemi. La stragrande maggioranza delle persone con le quali ho parlato ha ribadito con grande responsabilità il diritto all'istruzione di questi bambini cinesi, come pure ho avuto un contatto con la famiglia, con il papà, di cui ha mostrato un grande senso di responsabilità, preoccupato per i suoi figli, ma soprattutto anche preoccupato per gli altri bambini, quindi questo è un segno di maturità forte nel bene della nostra comunità. La signora ha rispettato perfettamente il protocollo che in queste circostanze viene assegnato. Lei, quando è uscita dagli aeroporti, assumeva tutte quelle precauzioni che viene assegnate a chi magari è stato lì e che è rientrato in Italia, quindi lei le ha perfettamente eseguite. Quindi ci sono state richieste assurde di chiudere la scuola, di fare opere di disinventazione, ma questo, insomma, nel caso in cui veramente ci fosse stato, avvisate che questa persona aveva delle infezioni o altre, o che i bambini potessero fare, è chiaro che da parte dell'ASL venivano fatti altri provvedimenti, non di normalità o di assenza di criticità, ci avrebbero detto quello che dovevamo fare, ma ce lo dovevano dire i medici, le autorità sanitarie competenti, non è che ci improvvisiamo tutti, in questi giorni ho assistito ad improvvisazione generale.